Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti Sono portiere e attaccante, Oli e Benji, due speranze Loro vogliono sfondare e campioni diventare Per poter così giocare nella squadra nazionale Nella squadra nazionale, con Isalena tirando i rigori Benji Isalena parando i rigori Sembra partite gli allenamenti, tanto è la classe dei due competenti Oli ricorre ogni pallone, sei giro segue con attenzione E questa sfida senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti Oli Isalena tirando i rigori, Benji Isalena parando i rigori Sembra partite gli allenamenti, tanto è la classe dei due competenti Oli ricorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione E questa sfida senza vincenti, fai due ragazzi felici e contenti